Sono Michela Conatti della Crestro in Italia, in Crestro mi occupo di quello che è lo sviluppo di progetti e insieme col collega Andrea Tamanini formo la divisione progetti di Crestro in Italia. Quest'anno siamo giunti alla terza edizione della Crestro University, un format già collaudato ma sempre di grande successo, che prevede dei mini corsi durante una giornata, in particolare facciamo 9 corsi la mattina, ripetuti allo stesso modo il pomeriggio per permettere a tutti i partecipanti di seguire più corsi possibile, in 3 ore in parallelo. È un format che riscuote sempre a grande successo tant'è vero che anche quest'anno abbiamo avuto un grande numero di adesioni, abbiamo più di 50 aziende partecipanti nell'arco della giornata. Gli argomenti dei corsi vengono scelti principalmente per dar modo a tutti i clienti di poter avere una panoramica di tutte le novità per dare spunti di nuove idee sia dal punto di vista della programmazione sia dal punto di vista commerciale, per cui copriamo un po' un ampio spettro di partecipanti anche all'interno delle aziende, sia commerciali che diciamo più tecnici programmatori. Le aziende invitate alla Crestro University sono il System Integrator di Pesimo Italia e quest'anno abbiamo aperto le porte anche a dei progettisti e durante l'anno, al di là di quelli che sono i corsi di formazione che facciamo eventualmente, ci sono altri eventi che sono dedicati ai nostri partner integratori nelle certificazioni che facciamo annualmente e un altro appuntamento ormai diventato importante sono i meeting progettisti che sono dedicati proprio agli studi di progettazione, ingegneria e architetti. La Crestro University ha appunto la sua terza edizione più o meno una volta ogni anno e mezzo viene organizzata e sin dall'inizio ha mantenuto questo format proprio perché vediamo che è molto attrezzato il dia di avere tante informazioni in un tempo molto ridotto. Questo è un evento che coinvolge tutta la nostra azienda al 100% e i relatori sono tutte le persone di Crestro in Italia che si alternano nei diversi corsi, ma cosa molto interessante è anche la partecipazione di interventi esterni. I corsi non sono solamente tenuti dalle persone di Crestro in Italia, ma in diverse occasioni abbiamo anche degli ospiti che possono essere o nostri installatori che raccontano di esperienze di installazioni fatte e proprio oggi ne presentiamo due che sono installazioni di eccellenza, oppure invitiamo aziende che cooperano con noi, che collaborano con noi per sviluppare dei progetti nuovi che presentiamo ai clienti. Ringrazio tutti quanti per la partecipazione e vi aspettiamo alla prossima Crestro University.